Buongiorno stimato Vladimir Vladimirovich, cari colleghi, di recente la situazione è migliorata solo nella città di Belgorod rispetto al primo trimestre del 2024. Ci sono stati solo due attacchi missilistici su Belgorod con munizioni a grappolo. In generale la situazione al confine è peggiorata drasticamente. Il numero di bombardamenti con artiglieri a canna, mortai e MRLS è aumentato significativamente, così come gli attacchi dei droni sono aumentati moltiplicando. Nel 2024 il numero di distruzioni e danneggiamenti cresce drasticamente. Abbiamo subito danni alle abitazioni in generale per 20,5 anni, oltre 30.000 case e appartamenti. Adesso ne abbiamo restaurati 25.000, ma purtroppo la situazione lungo il confine non ci permette di farlo attivamente, perché la situazione più grave è ora a Cebechino. È una città di 38.000 abitanti e un distretto di 85.000. In questo, nel 2024, sono state ferite quasi 300 persone e sono morte 36 persone. Ogni giorno abbiamo dalle 3 alle 5 attacchi con artiglieria, canna e MRLS. Da 3 a 5 case subiscono danni, praticamente tutte le finestre e il tetto. Non abbiamo informazioni complete, ma secondo i nostri calcoli, circa il 50-70% della città di Cebechino ha lasciato il territorio fino a oggi. E la tensione sociale a Cebechino cresce, perché la cosa principale è che non possiamo garantire la sicurezza. Stiamo sistemando la gente nei punti di accoglienza temporanei. In generale, siamo ancora nel 2022. Abbiamo aperto 17.000 posti. Ora, nelle strutture temporanei, ci sono persone della regione. 2.100 e fuori dalla regione ci sono 1.000 persone. Oggi, dopo gli eventi di oggi, abbiamo spostato circa 10.000 persone nel distretto di Krasnojaruski e i punti di accoglienza temporanei sono aumentati di circa 1.500 persone. Secondo la vostra decisione, Vladimir Vladimirovich, noi attualmente abbiamo possibilità fuori Belgorod. Abbiamo un limite di 6,5 mila persone. Si tratta di chi ha ferite lievi, di chi ha la casa danneggiata o completamente distrutta. Attualmente, 2.800 persone si trovano fuori. Grazie alla vostra decisione, ora 5,5 mila bambini sono stati evacuati. In totale, circa 15.000 persone quest'estate proseguiremo. In generale, anche Krasnojaruga, Graivoron. Un terzo del distretto di Belgorod, il distretto di Borisov e il distretto di Voluiskige. Problemi? Siamo molto grati per la vostra decisione, stimato Vladimir Vladimirovich, riguardo alla decisione di trasferire ora 12.000 persone dai quei luoghi abitati che sono attualmente già chiusi. Ma in generale, dove ci sono bombardamenti quotidiani, vediamo la minaccia dell'inverno in arrivo e non abbiamo praticamente alcuna possibilità di usare mezzi di soccorso. Perché? Perché il nemico li distrugge. Non abbiamo la possibilità di fornire assistenza medica perché il nemico la distrugge. Non abbiamo la possibilità, in molti casi, di ripristinare l'alimentazione elettrica e comprendiamo che l'approssimarsi dell'inverno moltiplicherà il problema. Complessivamente, una situazione del genere riguarda circa 115.000 persone lungo la zona di confine. Sulle decisioni, volevo domandare. Recentemente è stata presa una decisione sull'aumento delle indennità per emergenze e attacchi. Purtroppo capisco che si tratta di un errore tecnico, ma comunque le persone sono molto preoccupate. Lo considerano ingiusto. Questo non ha toccato i pagamenti per i residenti delle aree colpite dai bombardamenti delle forze armate ucraine. E vi chiedo di estendere questi pagamenti e questo aumento da 10 a 15, da 50 a 75 fino a 150 anche alla regione di Belgorod. Volevo chiedere se è possibile. È anche un problema molto grande quando la casa viene completamente distrutta e la persona rimane con l'obbligo di pagare il mutuo. Le vacanze vengono concesse solo per sei mesi alle banche ma in sei mesi è fisicamente impossibile costruire una nuova casa o un condominio. Mi sembra che sarebbe giusto cancellare il mutuo con la successiva fornitura di alloggi secondo i programmi attualmente implementati. La situazione di oggi a Krasnaya-Yeruga. Spero che le forze dell'ordine, compresi il Ministero della Difesa e il Servizio di Frontiera, risolvano la situazione attuale che è sorta questa mattina. e domani spero che riporteremo le persone nei loro luoghi di residenza ad eccezione di tre località. In primo luogo, Kolotilovki, che non è ancora popolata ma è praticamente sotto tiro costante e prenderemo prove e provvedimenti per il suo sfollamento con la fornitura di alloggi. Questa possibilità esiste nell'ambito delle precedenti decisioni del governo della Federazione Russa nel vostro decreto. Stimato Vladimir Vladimirovich è presente. Grazie mille. Per quanto riguarda la regione di Kursk, siamo in contatto quotidiano con Alexei Borisovich. I rapporti arrivano da tutti i dipartimenti che hanno formato i loro quartier generali. Il primo quarto riguarda il livello federale. Per questo non è naturale. I membri alla situazione. Tutto il lavoro è svolto per l'evacuazione della popolazione. Nel punto di alloggio temporaneo, la tua decisione garantisce i pagamenti e vengono forniti una tantum di 10.000 per persona. E oggi abbiamo fornito chiarimenti anche su quei pagamenti che vengono garantiti nell'ambito di Chernobyl, che sono due pagamenti distinti, 10.000 e 15.000. Tutte le misure necessarie vengono attuate nel corso sotto controllo. Lo stesso accade con Rossetti. Ci sono continuamente danni ai trasformatori che causano interruzioni elettriche. Rossetti interviene rapidamente nelle aree dove è sicuro operare, mentre dove non è possibile avviene il trasferimento. Vi ho informato della situazione a Kurchatov recentemente. Tutte le altre questioni vengono monitorate e gestite rapidamente con la Regione. Grazie. Guardate, adesso Gladko Vyacheslav Vladimirovich ha sollevato diverse questioni sull'ipoteca e su altre cose. Potete rispondere subito a questo? In particolare nella Regione di Belgorod posso dire che è stata presa una decisione sostenuta da voi riguardo a Kursk relativa a una moratoria sul pagamento del mutuo. Tutti i prestiti al consumo sono già stati presi in carico dalle banche. Questo riguarda non solo Sberbank, ma anche WTB e tutte le altre istituzioni bancarie che hanno fornito servizi ai residenti della Regione di Ur. Inoltre opereremo rapidamente anche nella Regione di Belgorod. È necessario fare la marcia, Gennady Ivanovic? Lavrentevich, prepariamo questa decisione. È assolutamente giusta. Dobbiamo immediatamente estenderla sia alla Bieloruskaya che alla Kurskaya. E potenzialmente... Va bene, Vyacheslav Vladimirovich, formalizzi questo come un documento, va bene? Così diventa ufficiale. Va bene. Chi c'è? Grazie.